in questo tutorial oggi andremo a vedere come inserire il vostro sito dentro la search console di bing bing è un motore di ricerca come google e anche lui implementa la search console come google praticamente la piattaforma online dove tutti i webmaster e analisi seo e inseriscono i siti dei clienti allora la prima cosa da fare è probabilmente andare su bing.com slash webmaster home my my sit ok e da qui praticamente poi logarsi naturalmente se non avete una posta elettronica e windows la create va bene anche hotmail live così via un'altra locati vi appare questa pagina qua e dove qui dovete mettere il vostro sito web allora intanto andiamo prendere la root copia diciamo aggiungi qui e possiamo mettere la nostra sitemap io nel mio caso e ce l'ho già fatta l'andiamo inserire qui speriamo che se chiede a url completo perciò vuole anche questo google non lo chiede invece invece lui sì allora facciamo così copia ok sotto mettiamo quando quando riceve il traffico più intense a questo sito secondo l'orario locale facciamo noi lasciamo tutto il giorno e facciamo aggiungi aspettiamo che carica ok adesso dobbiamo come google dobbiamo scaricare il file html e lo dobbiamo praticamente mettere dentro il nostro server dove risiede il sito un attimo ok lo andiamo a cercare dove abbiamo dove è stato scaricato eccolo qua lo aggiungiamo ok poi dobbiamo verificare come vedete risulta il codice fatto questo scendiamo giù e facciamo verifica ok è stato verificato la nostra sitemap è stata inserita la dovete essere ancora in sospeso poi verrà inserita ok e poi le ha gli altri parametri menu eccetera li analizzeremo in una sudoria perché altrimenti diventerebbe molto lungo e mi hanno chiesto di fare video un po più corti perciò il video finisce qua spero di essere stato utile ok e farò creerò una playlist dove inserirò tutti i tutorial riguardanti questo questo questa piattaforma di bing insomma ok commenta il video ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao